Il Consiglio Comunale di Saltara ha approvato all'unanimità una mozione del Movimento 5 Stelle che pone le basi per l'istituzione di un albo di volontari. Qui verranno elencati i cittadini che si rendono attivi e mettono a disposizione dell'intera comunità la propria professionalità e competenza, ricevendo in cambio sconti e sgravi su alcuni tributi, come la Tari, la Tasi o l'Imu. Viene da un decreto noto che si chiama Sblocca Italia del 2014 che prevede la possibilità per cittadini singoli o associati, per cui o persone singole oppure associazioni, di presentare progetti ai comuni per la cura del verde, del territorio, eccetera. Questa è la questione. Con una primarietà minima che viene data, con la riduzione degli imposti, anche perché se un gruppo di cittadini mi tiene in ordine un giardino, il comune deve pagare meno ovviamente per fare lavori, per cui può anche dare degli sgravi fiscali. Chiunque, purché residente nel comune di Saltara, potrà aderire al progetto di iscriversi all'albo dei volontari. A quel punto, se si avrà bisogno di un elettricista per ripristinare un quadro elettrico, o di un falegname che rimetta in buono stato le panchine del parco e i giochi per bambini, o ancora di un maggior numero di persone per tagliare l'erba del quartiere e ripulire i fossi, verrà richiesto l'aiuto ai cittadini iscritti. Adesso noi, appena approvato il regolamento, faremo una comunicazione, per cui i cittadini, ripeto, singoli o associati o in gruppi, in associazione, eccetera, potranno presentare dei progetti su alcuni giardini, alcune cose, alcune aree verdi, eccetera. Il comune ovviamente sarà interessato a fare in modo che questa cosa parta prima possibile.